Il Picerno regola per 2-0 il Messina e mantiene la vetta della classifica in condivisione con il Benevento dopo sette giornate nel girone C di Serie C. Partita non priva di difficoltà, quella dello Stadio Curcio, decisa nel quarto d'ora finale da Cardoni e Petito, entrambi alla prima marcatura nel calcio professionistico. Le formazioni, turnover per Tomei, che tiene inizialmente in panchina, Magliorino e Capitano Esposito, assente energie decisivo negli ultimi 180 minuti di campionato. 4-2-3-1 guidato in attacco da Sant'Arcangelo, consueto 4-3-3 per Modica che affida la produzione offensiva del Messina a Pedicillo, Anatriello e Luciani. Prima conclusione nel match del Picerno, Graziani calcia dai 22 metri, Curtosi in traiettoria chiude in corner, entra in partita anche Sant'Arcangelo, corsa di 30 metri con il pallone tra i piedi per l'attaccante del Picerno, destro dal limite, Curtosi blocca. La prima occasione di Senata per il Messina matura al 39esimo, Lia crossa da destra, Gilli svirgola e Merelli ci mette la punta dei guantoni salvando la porta. Dalla bandierina Anselmo calcia e Anatriello la mette dentro ma in posizione irregolare, 0-0 al riposo. All'alba del secondo tempo Tomei ci prova inserendo dalla panchina Magliorino e Petito, ma è il Messina a farsi pericoloso a metà frazione. Pedicillo affonda da sinistra e sterza, destro a giro e Merelli salva in corner, tenendo in piedi la sua squadra. Intervento che acquisirà ulteriore valore, dieci minuti dopo, da esposito a Magliorino, crossa al centro e Cardoni è il più lesto di tutti a toccare, battere Curtosi. 1-0, primo gol tra i professionisti all'esordio nella categoria per l'ex San Benedettese, pagano le mosse di Tomei dalla panchina. Reagisce il Messina, Petrucci verticalizza per Petrungaro, destro strozzato sul fondo. All'85esimo il Picerno chiude la partita, Magliorino calcia forte dal limite, Curtosi non trattiene, Petito ribadesce in rete con il tapin che vale il 2-0. Nel terzo minuto di recupero il Messina cerca il gol della bandiera, Cominetti approfitta di un pallone perso dal Picerno e calce in diagonale, ma Merelli blocca difendendo il clean sheet fino al fischio finale. 2-0 Picerno che sale a quota 15 in classifica e sabato prossimo replicherà in casa ospitando la Cavese, Messina fermo a 6 e atteso domenica dalla sfida interna all'altra capolista, il Benevento.